Una tromba d'aria ha originato danni ingenti e attimi di terrore a Capodorlando in via Consolare Antica in Contra da Forno. Dopo una notte di forti piogge intorno alle 4.30 il vento ha flagellato l'aria sollevando una trentina di pannelli in coibentato utilizzati per la copertura di un piccolo capannone di un vetraio che ha la propria abitazione a ridosso della struttura. Pannelli che sono stati trascinati per centinaia di metri e scaraventati su auto, abitazioni ed esercizi commerciali. Uno si è infranto contro la veranda di un'abitazione sganciando il tetto prefabbricato che è precipitato sul piazzale sottostante distruggendo tra l'altro tre auto in sosta. A rendere l'idea della furia del vento alcuni pezzi di coibentato finiti sulla collina sovrastante la Consolare Antica ad almeno 300 metri di distanza. Secondo la ricostruzione di M Notizie che ha pubblicato sul suo portale le foto che vi mostriamo, al maltempo si sarebbe aggiunta l'imperizia dell'artigiano che avrebbe fissato male i pannelli. Ancora da quantificare ma certamente ingenti i danni di vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello hanno cominciato a stilare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Capodorlando, la Polizia Municipale e il responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune, Alfredo Gugliotta.